Ero nervosissimo. Non mi immaginavo assolutamente di essere teso perché io sono abituato davanti a 20.000, 30.000, 10.000, tre persone, una. Però qui è differente. Anche se sono due minuti, sono due minuti di tarone. Dopo che sono tranquillizzato, anche se ero distrutto. Mamma mia! Mamma mia! La cosa che mi ha colpito di più è che non sembra assolutamente un senior. Sembra un gigante della mia età. Ho dato fiducia a Clementino perché uno che viene dal rap parte dal rock. Per te ho scelto Natbush City Limit, Tina Turner. Meraviglioso. Mi ricordo, lo ballavo ai festini negli anni 70. Ero giovane, ci facevano le feste alla domenica al pomeriggio. Tu sei una cosa grande per me. E sono un po' freddino. Vai tranquillo, si sente il fuoco. Questa è la cosa più importante. Lui regge tranquillamente le note di Tina Turner. Questa cosa è pazzesca. Io ce la metto tutta per trasmettere più energia possibile. Pronto ad infuocare il palco della semifinale di The Voice, Alex in bocca al lupo. Grazie. Senz'altro sarà un'esecuzione meravigliosa. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.